Buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Asbrad, questo è Forza Horizon 3, siamo al quindicesimo appuntamento con questo gameplay e siamo qui con la mitica Ford Deluxe del 1930. Come avete sentito, io ho cambiato un po' il clacson perché si addice un po' a queste macchine che avevano la trombetta così, sì, era di classe D, prestazioni 100, io l'ho trasformata in S1 a 830, mi sembra, 840. È una bestia, sì perché sennò non ci muovevamo più. Andiamo a trovare il gioiello dimenticato che doveva essere questo qui, però è troppo lontano, e ce ne hanno segnalato subito adesso uno qua. Quindi andiamo a prendercelo, andiamo a trovarlo. Ecco, io l'ho lasciata trazione posteriore, sono pazzo, lo so. Infatti non si controlla, mamma mia! Con le ruotine della bicicletta ovviamente, cioè le sue originali, io le ho lasciato quelle. Niente, sgomma, sgomma, mamma mia! È incredibile, non ci arriveremo mai ragazzi. Eh, sì. Devo... Ok, io non sto schiacciando neanche il grilletto, eh. Mamma mia! Che spettacolo ragazzi. Vediamolo un po' da dentro, è bellissimo. Sentite il doppio turbo come... Come sfiata, che spettacolo, come soffia. Ma poi è meglio... Mamma mia! Che spettacolo ragazzi. Allora, visto che è così... Mamma mia! È una belva incontrollabile. Non ci arriveremo mai. Vabbè, facciamo che vi taglio un po' il percorso, perché sennò veramente non ci arriviamo più. E ci vediamo appena siamo arrivati nella zona del gioiello dimenticato. Eccoci qua! Siamo arrivati nella zona del gioiello dimenticato con non poche difficoltà. Mamma mia, sta macchina è assurda. Sgomma, continua a sgommare. Cioè, non sono andato oltre la seconda marcia. Incredibile. Allora, andiamo un po' a vedere dove può trovarsi questo gioiello dimenticato qui. Era un punto di interesse che avevamo scoperto l'altra volta. Io direi di fare una cosa molto molto intelligente. Modalità drone, perché sennò veramente non ce la capiamo più. Allora, andiamo a cercare. Vediamo un po'. Guarda che forse l'abbiamo già trovato. Perfetto. Beh, con il drone si trova sempre tutto subito. Il problema sarà arrivare adesso. In mezzo alla campagna. Allora, io tengo accelerato quel tanto che basta per farla partire la macchina. Poi vada sola. Allora, vediamo che cosa... Vediamo, vediamo. Sono troppo curioso di vedere che gioiello dimenticato troviamo. Oh, mi piace questa parte. Uuuuh, che bello. Questo è un FX. Questo è il primo ute che Holden ha mai fatto. Questo è l'azienda dell'Australiana al 100%. Eh, ma magari ci bevevano delle capre. Cioè, non è che sembra proprio in condizioni bellissime. E comunque abbiamo trovato una Holden. Va di tranquillo. Va di tranquillo. Come diceva il ragioniere. Ragioniere Fantozzi. Bene, allora. Io direi di... Veramente salutarci qui con questa puntata. Abbiamo trovato il gioiello dimenticato. Io voglio fare magari una... Una puntata solo per gioiello dimenticato. Quindi ogni volta che ne troviamo uno sarà una puntata dedicata solo a quello. Con la nostra mitica Ford Deluxe 5 Window Coupé del 1930. Super elaborata. Super incontrollabile. Vi rimando a un prossimo video. Alla prossima puntata dove andremo a fare la sfida con il treno. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un mi piace. Lasciate un commento. Condividete. E un saluto a tutti da Asbrald. Grazie. 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 Grazie.